Un metro dalla linea di Metta, posiziona il pallone. Paris la vuole. Paris è fuori, Sgarbi, 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 Sgarbi la mette! Bravo Albertino! Albertone. Il lagassolo degli Springboks, troppa, troppa superiorità nell'impatto fisico. Vuoi dirmi che adesso non ci hanno messo gli Springboks la stessa attenzione in questo inizio e secondo tempo? È un problema loro, di fatto, l'Italia è stata estremamente più, come dire, più, non cinica, ma efficace nell'andare oltre. È stato sintomatico, è stato il buco preso. Anzi, di Mike Ross. No! Darsi, numero, D'Odriscoll. Non ci credo. La palla per Fitzgerald, due mete nel giro di... Siamo all'ottavo, meno di cinque minuti, due mete di lei. Contro. Francesco, questa è la cosa più... Qua, vabbè. Sai, dici, lo possono fare tutti. No, no. No, no. Lo possono fare in pochi, fatto così bene. B.O.D. In B.O.D. We try. In Brian Odriscoll, we trust. Non mi crediamo. Beh, questo è più di un K.O. We try, lo ho messo io, perché try è la meta. Questo è più di un K.O., Francesco. Anche con lo sberlefo, se vuoi. Perché poi, alla fine... Arrivederla sembra anche con una facilità estrema, ma qua c'è una classe nei passaggi, un'eleganza, una precisione. E poi, questo qua. Castro patiente, e a 10 minuti di la fine, se retrouve ancora in position di marco. Rémitales trova la solution, con questa passacrobatica tra le jambi, doublé per Marc Andreux, il score 37 a 17. Il score è lourd per le jambi. Il score è lourd per gli studenti di marco. Grazie a tutti Grazie a tutti